In questo tutorial ti mostrerò come installare l'app ArubaFirma e configurare il tuo account di firma remota. Come prima cosa, scarica l'app. Accedi allo store del tuo dispositivo mobile, cerca l'app Firma Digitale Aruba ed installala. Perfetto, adesso avvia l'app. Al primo accesso, visualizzi la schermata di configurazione iniziale da cui configurare l'account. Nel caso non fosse il primo accesso, puoi accedere alla solita schermata cliccando qui, poi su Impostazioni. Ok, adesso seleziona Firma remota e inserisci il nome utente dell'account di firma remota che è indicato in fase di attivazione. Guarda, se disponi di una soluzione non personalizzata, inserisci solo il nome utente senza abilitare il selettore Specifica dominio. Adesso seleziona il tipo di firma predefinita tra CADES, P7M e PADES. Questa preferenza la puoi modificare anche in seguito. Ti basta andare sul menu Impostazioni nella scheda Firma remota. Per terminare la configurazione clicca qui su Salva.